Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla 2 del Mediterraneo, dagli ore 22 di oggi alle 6 di domani, per lavori attiva la riduzione di carreggiata nel tratto compreso tra le uscite Fisciano e l'allacciamento a 2 di Ramazione di Napoli in entrambe le direzioni. Sulle ramo di Capodichino, sempre dalle 22 di stasera alle 6 di domani, è chiuso lo svincolo Capodichino in uscita in direzione della tangenziale di Napoli, l'uscita alternativa per i veicoli provenienti dalla 1 Roma-Napoli e lo svincolo secondigliano sulla tangenziale di Napoli. Sulla strada statale 268 del Vesuvio fino alle ore 17 del 15 giugno, per lavori chiuso il tratto compreso tra gli svincoli Ottaviano-Zona Industriale ed Ottaviano-Centro in direzione Napoli. Sulla tangenziale di Salerno fino alle ore 6 del 23 giugno, per lavori chiusa la rampa d'ingresso dello svincolo via Irno in direzione nord. Per queste ed altre informazioni vi rimando al nostro sito, l'indirizzo è www.muoversi.regione.campania.it Vi ricordo anche che potete scaricare la nostra app, quella di Muoversi in Campania, per rimanere sempre aggiornati in merito alle notizie sulla viabilità ed il trasporto pubblico locale in Campania. Dalla redazione Muoversi in Campania, Emanuela Belcuore. Servizio a cura di Acamir e Regione Campania